Ti volevo chiedere perché le persone restano in una relazione tossica magari, che sentono sbagliata per loro, nonostante se ne accorgano? Questo fa parte di quello che dicevamo prima, quindi gli apprendimenti. Se io penso di essere una persona, per esempio, con poco degna di amore, è chiaro che mi accontenterò anche delle bricioli, no? E quindi meglio una relazione sbagliata che nulla. Quindi per esempio quello che raccontano spesso le persone è proprio la paura. Cioè io so che qui ci sto male, ma se esco da questo io ho paura del niente, no? Ho paura di essere completamente solo. Questo è il motivo principale, no? Quindi la paura della perdita. Dentro entrano poi tantissimi fattori. Quindi intanto la convinzione che l'altro possa cambiare. Questo perché ricordiamoci che le storie non iniziano tossiche. Le storie iniziano bene di solito, no? Anche perché mostriamo la miglior parte di noi e siamo sempre ottimisti e ci lanciamo nelle storie, no? Con grande ottimismo. E poi piano piano gli automatismi di entrambi, le modalità relazionali che hanno appreso, il bisogno che hanno di confermare, no? La propria immagine viene fuori. E piano piano si creano questi circuiti, per cui è difficile uscirne. E un pensiero costante è tornerà tutto come era prima. Questo per esempio è qualcosa che le persone raccontano sempre. Va bene, ma adesso succede adesso perché c'è dello stress lavorativo e quindi siamo più nervosi, no? La paura del fallimento. Perché non dimentichiamoci che in tutto questo ci sono fortissime pressioni sociali. Cioè, ognuno di noi sta dentro un gruppo sociale. E questo è qualcosa che interviene in ogni tipo di relazione. Credo che la cosa poi più importante, che è quella che ci rimane più attaccati, è il preservare l'immagine che abbiamo di noi. Quindi, se l'immagine che ho di me è quella appunto della sfigata, che becco sempre relazioni sbagliate, io tendo a rimanere. Oltre che a cercarle, tendo anche a rimanere dentro le relazioni sbagliate. Se la percezione che io ho è che sono la meglio del mondo, che io posso cambiare gli altri, starò dentro una relazione in cui l'altro non mi piace, l'altro non si smuove, ma almeno io posso esercitare il mio potere criticandolo tutto il tempo. Grazie. Grazie.